Torna in Commissione Antimafia il caso Vassallo. La discussione si è aperta martedì e questa volta l'iniziativa è stata del deputato 5 Stelle Luca Migliorino. Non è la prima volta che la morte del sindaco Pescatore arriva nelle aule parlamentari. Già nel 2019 Dario Vassallo, con l'uscita del suo libro La verità negata, riuscì a conferire nuovo impulso alle indagini sulla vicenda e a dare risalto mediatico e politico al caso per sollecitare una risoluzione. Due anni dopo però nulla è cambiato. Ora Migliorino ha proposto di riaprire il fascicolo sul delitto irrisolto e a prendere parte al primo incontro sono stati quasi tutti i componenti della Commissione Antimafia, esponenti dunque di diversi partiti pronti a vederci chiaro sulla vicenda. Nella prima giornata sono stati letti alcuni discorsi e interventi del sindaco Pescatore con le accuse che fece e che spesso hanno accompagnato il racconto della vicenda. I lavori della Commissione proseguiranno ora con incontri settimanali. In uno dei primi verranno ascoltati tutti i giornalisti presenti ad Acciaroli il giorno della scoperta del corpo del sindaco. Particolarmente soddisfatto Dario Vassallo che ha operato assieme a Migliorino per raggiungere questo risultato. Il fratello del sindaco ucciso è convinto che la Commissione potrà indagare a 360 gradi in più direzioni anche sullo svolgimento delle indagini su cui è stato sempre critico, riuscendo così forse a rimuovere quella cortina e quel silenzio che in qualche modo hanno sempre circondato la vicenda. L'Italia, ha scritto Dario Vassallo in un post in queste ore, non vuole sapere solo chi ha ucciso Angelo, ma anche dei miserabili che hanno depistato, occultato, sbagliato, volutamente nascosto. E' tutto scritto e tra poco dovrete risarcire il danno arrecato non solo a me ma a questa nazione.